A ottobre, noi abbiamo già anticipato gli acquisti di un mese, due mesi, dobbiamo fare le vaccinazioni per tutti. Quest'anno, mettetevelo in testa, dobbiamo vaccinare il 100% dai bambini agli anziani, per una ragione semplice, perché l'influenza ha la stessa patologia, la stessa sintomatologia del Covid. Quando avremo malati per influenza, sarà difficile capire se è influenza o è l'infezione Covid. Quindi è bene vaccinarsi tutti per tempo, altrimenti noi avremo a settembre e ottobre gli ospedali inondati di presenze e di pazienze. Faremo fatica a reggere. Allora vi prego davvero di essere puntuali. Quando comincia la fase delle vaccinazioni, ognuno vada a farsi il vaccino perché ci aiuterà tantissimo a non confondere patologie influenzali con patologie Covid. Nient'altro, una bellissima giornata, un grande regionale. Non c'è quella vecchia di Doll Francisca. Ecco, Logo fa preparare a